Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi che i server di Rainbow Six Sage sono momentaneamente offline. Sono offline già da qualche ora, molti giocatori hanno avuto problemi e stanno avendo problemi a connettersi online con i server di Rainbow e anche io stesso su PS4 ho provato a collegarmi online ai server di Rainbow ma non mi faceva connettere. La Ubisoft sull'account Twitter Ubisoft Supporto ha rilasciato questo post qualche ora fa, stiamo studiando un problema con l'accesso a alcuni dei nostri servizi online, chiediamo la vostra pazienza nel frattempo. Mentre sull'account Twitter di Rainbow Six Sage, gioco ufficiale, ha rilasciato questo post con scritto Team tecnici stanno lavorando per correggere la causa dell'interruzione, non abbiamo ulteriori aggiornamenti in questo momento. Fortunatamente non ci sono notizie che rivelano un attacco hacker di DOS ai server della Ubisoft o comunque sia ai server di Rainbow. Al momento tutti i giocatori non potranno connettersi ai server di Rainbow, quindi non potranno giocare online a Rainbow Six Sage. Per cui attendiamo che la Ubisoft farà tornare i server di Rainbow online per giocare a Rainbow Six Sage online. Per cui niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da orcover tutto il cinema, prossimo video, bella!